Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono il vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Stoneblock Allora l'ultima volta sono successe un po' di cose, come prima cosa ho aumentato un po' i Crusher per il fatto dei minerali di questa zona qui per compilare quella missione In questo modo spero di riuscirne ad avere qualcosa di più, però non è quella la missione che andremo a fare oggi Poi stessa cosa riguarda i polli, un po' aumentari, ho messo quelli della Redstone e ho messo quelli di diamante Il che fa veramente veramente tanto perché in questo modo riesco a produrre veramente veramente tanto Fatele visto così poco tempo, ho fatto 1200 diamante Non basteranno mai così pochi però sarà utile Ho un po' buttato giù ancora di più pareti Di qua ho cominciato a fare una farm di Ender Pearl per quanto riguarda le Ender Generator E ho aumentato un po' lo spazio di tank per la lava In questo modo dovrei riuscire ad avere abbastanza di più Quest'oggi andremo, questa zona qui della Project E Direi di cominciare a fare quella zona lì Quindi cominciamo a performare la Filosofer Stone Ok infatti come immaginavo non avevo abbastanza Ne bastano, servono due E Smeraldi, oddio, non so quanti mi sono rimasti No, bucchè abbastanza Per fare quello che volevo fare Devo andare a prendere pure la Redstone A questo punto approfitto per svulare tutte le roste Della Redstone Ok, mi pare che ne bastavano una Però non c'è qualcuno in più Tanto No, tre Ok Oddio Mi manca il Dragon Breath Possibile che Lo devo andare a recuperare Sì, devo andare a recuperare il Dragon Breath Allora, non ricordo Dove devo fare l'Encrystal Mi mancano le Gaste Tier Ocrastarle, non ne conviene Ok Devo usare le V-Siv di diamante O il Siv quello normale Quello però sempre di diamante Con Per quanto riguarda la Compressed Sold Ho fatto un stack 25 Spero Che mi basti Allora direi di approfittarne Per Ricaricare Il Jetpack Cosa almeno Per quando Andremo Di nuovo nel Land Per recuperare Land Crystal No, sbagliato Ok, ci fa fuori Ok, come immaginavo Se Smette di crashare Di crashare il gioco Potremmo andare avanti Intanto Ok Allora, direi Intanto ti riappoggiarti qui Non è che ho Tutta questa armatura Però Spero In qualche modo Di riuscire a prendere Qualche Any Crystal Cioè Castile Volevo dire No, a quanto pare Sto prendendo Il giusto Cioè Sto prendendo 8 Io Faccio in questo modo Se almeno Vedo il numero Di Gastiere Che prendo Mi pare Ne bastino 4 In totale Spero Di riuscire A Prenderle Ma A quanto pare Non è che Ho tutta Questa Fortuna Quasi Fatte 15 In totale E Mi ha droppato Una sola Castiera Ok Ora la seconda Spero Spero che le altre 5 Arrivino Abbastanza Velocemente Ok Terza Ok Intanto le altre Direi di farle Di qua Che se non ricordo male Non sono di diamante Sono di ferro Quindi Non droppano Gastiar E cose del genere E quindi Sono costretto A Farlo a mano Però in compenso Sto formando Pure un po' Di Ne da forza Non che ne avessi mancanza Però Meglio un po' Di più Che un po' Di meno Peccato Che le Vox Sive Non si possono usare In contemporane Come I sieve Normali Che così Si possono usare Fino A 8 In contemporanea Mentre in questo caso No Dai Me ne manca Una sola Sono veramente Veramente rare Però L'unica cosa che spero Che la quarta Ne arrivi Presto E senza che Che in qualche modo Perdo Cioè nel senso Arrivi senza Dover consumare Tutta la Sol cell Che mi è rimasta Però Vedendo questo Andazzo Sembrerebbe Proprio di si Cioè nel senso Che di si Che Ci metterà Tempo Eccola Intanto mi faccio Quest'ultima Così E Ti prezzo qua Nella Nella Spensa e mi ricordo Di andare avanti Ma è vero L'ho il Wither Questa Ok 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 abbiamo fatto I nostri 4 E il crystal Spalla Mi manca L'arco Direi di Prenderne 1 Quanto utilizzo Sono rimasti 0 Oddio Prendo uno normale Per Giusto per il fatto Di averne Ora Mi mancano Le frecce Pure questi Pezzi Di conico Non ho mai utilizzato Non che Voglio cominciarli A mangiare Ora però Perlomeno Comincio Provo a Cuocerli Allora Non appena Il Si caricherà Il Jetpack Oddio Sta Praticamente A metà Quindi In teoria Dovrebbe bastarmi Anche perché No Ok Devo Tornare a casa Perché non ho preso Le bottigliette Che cosa Cosa Molto Fondamentale Se Pure Il Videocamera Decide di funzionare Allora Ok Sta al 68% La batteria Quindi Allora Mi pare che un po' Le avevo fatte Sì Più o meno Uno stack Ok Ora direi Che possiamo andare Ufficialmente La batteria Vittoria L'inventario Ok I fps Vanno veramente Veramente Bassi E Non riesco a capire Perché Però Servono I 4 endcrystal Messi Rigorosamente Ai 4 Lati Aspetta Prima è però Di Piazzare L'ultimo Voglio prendere L'OLELAND Che non si piazza Non voglio che si piazza lì Allora Ma voglio che si piazza lì Per il semplice motivo In questo modo Piazzate una torcia E facendolo cadere Viene droppato Perfetto Ok In questo modo In questo modo Riusciamo a rievocare I vari C'è il drago Io scendo giù Ah ok Quindi Ok Le cose Coni che evoluciono Da che mi dasse Le posso Prendere col drill Perfetto Ok Il drago E' stato respawnato E io Posso cominciare Avveggiare Da una parte All'altra Per Distruggere Le varie I vari Endcrystal Si trovano Che si trovano A destra e a sinistra Così Da poter Innanzitutto Ok No Allora Io mi devo avvicinare Per prendere Un po' di Queste Sicuramente Devo mangiare Che a quanto pare Sono riuscito A Ok Sicuramente Non mi servirà Il drill Ma bensì Il piccone Ah che poi Dopo che lo faccio vedere Che l'ho Upgradato Ok Ok Non mi aspettavo Di morire Né tantomeno In aria E questo E' un grosso Problema Fatto Sono morto In In aria No Però Neanche troppo Perché avendo L'altro E Perché avendo L'altro Jetpack Il problema Non si pone Allora Mi porto Giusto Giusto Qualche Blocco Non Si sa Mai Però 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 Un po' di Armatura Me la vorrei Portare Non lo ricordo Ok 5 armor Stessa cosa Quindi come Quella Che fosse Ok Cap Ho solo Di pelle Mi accontento E Non è vero Oppure L'aerone Helmet Ok Con protection Allora Sorbo Non mi ricordo Cos'era Spero Nulla Di Negativo Diamante Qualcosa No Perché ho buttato Tutto Lì Nel Crusher E La stessa Cosa Quello Di Gold Almeno Non ricordo Ok Boots Allora Quelli Slime Non danno Protezione Questi hanno Uno Ne danno Due Ok Migliori Sono Questi Quei Che ne danno Uno Stessa Cosa 86 Questo Più Ok Quindi a Quanto pare Sono riuscito A Ok No Allora Qui ci sta La mia Morte Però Devo capire Dove Mi ha Messo Il Il Mio Amico Ecco Esattamente Proprio Lì Dove C'è Lo Scheletro No Non voglio Ok Non voglio Rimorire Anzi Non è che Non voglio Non posso Permettermi Di Rimorire Perché Nel caso Non Non ho più I Non ho più Il Ma Diciamo Non ho più Jetpack Ok Io Ora Mi sposto Mi allontano Parecchio Così Che Da poter Cercare Di Recuperare Quel Poco Di Roba Che Avevo Ok Si è bloccato Lì Allora Profitto Per Allontanarmi Anzi Per Mangiare Da lontano Ok Fuori un altro Ok Rimasto L'ultimo Ok 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 Distrutti Tutti Volevo capire Dove sta Il drago Per Poterlo Far Fuori Non posso Morire Non posso Morire Come Lontano Allora Devo Solo Sperare Che Se ne va Verso Il centro Ok Perché Se non ricordo Mare Con un paio Di colpi Riesco A Farlo Fuori Anzi Si è bastato Uno Solo Però Anche Quasi Fatto Fuori Me Però Il dragon Breast Sono riuscito A Ottenerlo Fuori Vediamo Se riesco A recuperarlo Si Perfetto Ora Recuperiamo Col po' Di Di Esperienza Che c'è Dato Un altro Uovo Di drago Ottimo Stesso Sistema Di prima E Lo Prendiamo Quindi Ora Abbiamo Ben Due Uova Di drago Il che E' Veramente Una Cosa Ottima Non Non so cosa ci potrò fare Però Spero che Le Riuscirò A utilizzare Presto Allora Usiamo tutto Ciò che Non ci serve Jetpack Poi lo metterò A caricare Allora Bottiglie Questo Ok No Ovvero Mi manca l'ultimo Pezzo E abbiamo Avuto Ottenuto La Philosopher's Stone Ora Ci serve Il libro Ah Quindi ci serviano i Fusion Crafting Core Quindi con il Dragonic Core E quindi Dovremmo fare Prima la parte Della Dragonium Ottimo Vediamo se Ci sono Altre Missioni Che posso Fare Momentaneamente Dragonic Evolution Presto Cominceremo Vediamo Nello Storage Se possiamo Fare qualcosa Ok Allora 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 Ok Il primo è Black hole Tenka Plastico Non so se Ce l'ho Appunto Non ce l'ho Sicuramente Però Ok Serve Legna In generale Quella Non è Un Problema Tu sei pieno Però Non è Il tipo Di legna Che Mi può Servire Allora Andiamo Vediamo Intanto Sul giusto Le missioni Che Possiamo Fare Ok Fare Le Presses M Drive Non so Se Posso Farlo Ok 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 Vi mancano Le Ultime Le Ultime Cose Quelli Quindi Questa Ancora Non possiamo Farla Vediamo Se Storage Disc Mi pare Mi pare Pure In questo Caso Servirà Ok Ok E quindi questo qui. Ok, mi manca lo storage parta. E quindi niente. Oh, il crafter. Mi pare pure questo in questo caso. C'erano cose che mi mancavano. Oddio, forse il silicon no. Però... La fintable ce l'ho. Ok, questo sì, mi manca. Però, col nostro aiuto... ...che se non ricordo male, sì, questo mi sono riperso. Sì, si otteneva... ...da sblocca... ...con... Sono l'overworld mettendo il fuoco sopra alla bedrock. E quindi, in teoria, in qualche modo, ce la dovremmo fare. Siamo all'altezza 68. Spero di... Oddio. Ma non so se è più veloce... ...sì, è più veloce il... ...il drill ancora. Ok, spero solamente di arrivarci quanto più presto possibile. Ok. Eh! No! Non c'è... ...la... ...bedrock. E questo è un vero vero grosso problema. Il fatto che non ci sia bedrock. Beh, troverò il modo per... ...formare bedrock. Allora... ...allora... ...vevo una cosa... ...torno su. Allora... ...come si forma la bedrock? No. Ok, non si può formare. Oddio, forse una soluzione ci sarebbe... ...ovvero... ...quelle di andare... ...dall'altra parte. Forse di qua non so se... ...ci sta in questa zona di mondo. Ok, qui. Ah, c'erano un po' quei tizzi lì. Però non mi interessano. Allora... ...quello che mi interessa veramente è... ...no, non voglio usare la spada. Ma di scendere fino a giù. Non so se qui... ...ci sta o no la bedrock. Spero vivamente di sì. Sì. Perché sennò è un grosso grosso problema. Sì. Ok, qui c'è la bedrock. E ho pure l'accendino. Allora... ...quindi ora dobbiamo nuovamente andare dalla crafter. No, crafter normale. E... ...e... Ah, ok. Può dare... Ok, semplicemente incendiando, va. Ok, io provo ad incendere. Non ho prenduto il fogo io. Bene, allora, sicuramente sarà un lavoro molto AFK. Perché sono sicuro che ci vorrà molto molto tempo prima che... ...mi droppi qualcosa. E direi che per questo video è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Vero, non abbiamo fatto molto. Però... ...spero ovviamente che... ...riuscirò... ...effettivamente a fare qualcosa. Bene. Mi raccomando di iscrivervi al canale, di iscrivermi su Twitter, Instagram, Facebook, ovunque voi vogliate. Io vi saluto. Ciao a tutti voi! Grazie a tutti